Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli I requisiti sono una base operativa piena e una LG RH8 Ragazzi non ci serve nient'altro, né Avenger, né Com, né Molotov Non ci serve veramente nulla, penso che sia il glitch definitivo uno tra i più facili Allora, per fare questo glitch che cosa dobbiamo fare? Andiamo verso la base operativa, facciamo comparire base operativa piena, tasto PS e torniamo in game ragazzi Dopodiché aspetteremo che ricompaia il pallino giallo, anche se non è necessario, però aspettate Premete il tasto touchpad e che cosa dovete fare? Allora, lo scopo di questo glitch è arrivare qui, dove sono io più o meno E premere il tasto cerchio quando abbiamo il touchpad premuto In maniera tale che ci compaia la scritta base operativa piena Così ragazzi Allora, se avrete fatto bene, ci dovrete prendere un po' di tempo Se avete fatto bene, premerete X e non vi farà entrare, come nel mio caso Vuol dire che tutto andrà bene Se vi farà entrare dovete ripetere e dovrete prendere un pochino di tempistica Per poter, diciamo, farlo alla perfezione Dopodiché che cosa dovete fare? Vi allontanate e rientrate nella base operativa Allontanatevi a una buona distanza In maniera tale da poter risolvere il glitch Quando arrivate vicino alla base operativa Ragazzi, vi dire a base operativa piena Andrete ad entrare nella base operativa E andrete a sostituire il veicolo Niente di più semplice ragazzi Veramente una cazzata allucinante Ricordate solo di avere targhe personalizzate Per fare questo glitch E ovviamente di usare una custom Un'auto custom Un'auto di quelle che si usano da Bennis Questi sono i requisiti ragazzi Non credo che sia così difficile Adempiere a questi requisiti È veramente una cazzata il glitch Ripeto, è una cazzata ragazzi Quindi approfittatene Perché io penso che domani Questo glitch venga pacciato Questo come molti altri Vengono pacciati E quindi avete la possibilità Ora di poter fare soldi E nulla Quindi adesso vado ad uscire Vi faccio vedere che mi butta fuori dal veicolo Questo sta a significare che l'auto è duplicata ragazzi E ora vado a richiamare lo stesso veicolo Ragazzi io ce l'ho sotto forma di blazer acqua Perché lo tengo nel deposito veicoli speciali Ma come vedete io ho richiesto il blazer acqua Ma vi porterà la stessa elegi Che vedete qui Detto questo ragazzi Ricordatevi che dopo che avete fatto Diciamo tutte quante Le duplicazioni Dovete riavviare il gioco Perché altrimenti non Accadrà come è successo a me Insomma non vi farà Utilizzare l'auto che avete appena duplicato Che altro dire ragazzi Un saluto a tutti Approfittate del glitch E al prossimo video Ciao a tutti